Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo a java che non è stato trovato oppure c'è un errore riguardo a java su windows quindi in questo caso questo è l'errore che riscontri quindi in questo caso andiamo così sul sito che ti ho lasciato in descrizione per scaricare così windows non in linea quindi windows offline ci clicchiamo sopra e cominciamo così a scaricare il programma una volta scaricato andiamo così ad avviare il programma .exe facciamo sì e lo installiamo facciamo modifica cartella di destinazione fai install andiamo così a metterlo nella cartella c del nostro percorso file quindi sul disco c dove tieni il tuo sistema operativo e facciamo avanti grazie l'installazione di java è stata completata quindi facciamo chiudi andiamo così nella cartella di java quindi questo pc vai direttamente sul disco locale c vai su programmi scendi fino a giù fino a trovare java andiamo così a prendere il java che abbiamo installato bin ed eccolo qua coppia così il percorso file di questa cartella bin andiamo direttamente su visualizza impostazioni di sistema avanzate variabili d'ambiente clicca su patch questo qua di java vai su modifica quindi vai su modifica e facciamo nuovo e facciamo incolliamo quel percorso file che abbiamo copiato e fai ok e fai ok qua una volta fatto riavvia il tuo sistema operativo per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao